luca terzani e marco terrone presentano la pecora nera quello che gli altri non dicono amici e amiche della pecora nera bentornati dopo l'estate a questa nuova puntata oggi abbiamo una puntata abbastanza diciamo importante con un amico che è tornato a trovarci oggi ma prima di presentarvelo come al solito saluto volta parte dei prossimi ca marco ciao marco bentornato luca bentornato anche a te soprattutto bentornati ai nostri ascoltatori a coloro che si metteranno in visione di questo video di ritorno dall'estate lasciamelo dire l'estate sta finendo è un anno se ne fa se ne va iniziamo con questa situazione però siamo molto contenti di avere un ospite che ritorna da noi per parlarci di un di fantascienza forse gesù in giappone chi lo sa o è storia parliamone con uno molto più capace e preparato di noi diamo il bentornati o il bentornato a enrico baccarini ciao enrico ciao ragazzi ciao luca ciao marco tutto bene grazie bene noi tutto bene e enrico noi della pecoranea ti seguiamo tu non lo sai ma ti stoccheriamo costantemente e intanto dobbiamo fare i complimenti per il tuo canale youtube che poi metteremo il link in descrizione perché è veramente un bel canale con dei bei contenuti e proprio partendo da questo noi eravamo io e marco eravamo al mare a fare il bagno non è vero stavamo lavorando tutta l'estate però è riuscito fuori un un tuo video davvero interessantissimo perché aveva un titolo molto di effetto e ritornano quei temi che i nostri ascoltatori ci chiedono moltissimo perché dalla tomba del talpiot in avanti ne parleremo comunque il tuo video ci colloca ci riporta in giappone in un piccolo villaggio a 600 chilometri 650 chilometri da tokyo che conta 4000 anime e secondo una leggenda locale un personaggio si aggirava da quelle parti adesso non vorrei spoilerare lascio parlare a te di cosa stiamo parlando beh diciamo che è una tradizione veramente bella veramente affascinante per chi ha già visto il video sa già almeno le mie conclusioni la tradizione locale di shingo che come dicevi un paese molto piccolo nel nord del giappone vuole che nei famosi anni perduti quindi tra l'adolescenza e l'inizio del suo mandato gesù si fosse recato in giappone c'è da dire che ci sono diverse leggende per cui in certe volte si accavallano certe volte si contraddicono e questa leggenda appunto vuole una presenza di gesù giappone gesù che avrebbe studiato con monaci addirittura sul monte fuji poi sarebbe tornato indietro in palestina e come ci dicono anche altre tradizioni non sarebbe morto in croce perché sarebbe stato sostituito e da un fratello molto simile a lui e qui ritorna anche tutta una tradizione di cui parleremo insomma di santo maso detto il didimo il gemello e vuole questa tradizione giapponese che appunto gesù sia ritornato in giappone e qui abbia preso moglie abbia avuto tre figlie abbia dato origine a una discendenza e i locali ancora oggi lo adorano lo venerano parlano di lui parlano di un testamento che avrebbe lasciato e c'è un piccolo tumulo su cui svetta una croce dove secondo la tradizione appunto sarebbe stato sepolto gesù e un altro dei suoi fratelli come vi dicevo una tradizione abbiamo rassunta molto veramente affascinante veramente bella però ci sono tante domande che sorgono a scingo è realmente sepolto gesù beh tutti i dati mi dispiace magari infrangere un sogno ma tutti i dati ci dicono di no perché al di là che era molto difficile non impossibile che un gesù si fosse recato in giappone per tutta una serie di questioni anche storiche e non solo è oltremodo impossibile che si sia recato in quelle zone in quel periodo preciso se è plausibile che sant'ommaso si sia recato nel sud dell'india come ancora oggi viene venerato addirittura alcune sue reliquie sono ancora lì e sembra collimerebbero con le analisi del dna che sono state fatte con un un individuo della palestina dell'epoca di cristo è altremodo in vero simile che gesù si sia appunto recato a scingo in giappone e lì abbia dato origine a tutta questa tradizione questa leggenda molto più probabile è il fatto che i primi monaci i primi missionari che andarono in giappone sapete benissimo quanto è stato difficile per il cattolicesimo il cristianesimo inserirsi all'interno di quella cultura hanno avuto i loro martiri insomma i cristiani giapponesi è molto più probabile che un missionario appunto o abbia o sia stato travisato molto più probabilmente per far entrare questa questa nuova religione questa nuova tradizione abbia un po mischiato le carte abbia presentato una storia un po alterata e poi da lì si è nato tutto quello che conosciamo c'è da dire che scingo questo piccolo paesino ovviamente è meta di turisti se ne contano circa 10.000 all'anno non sono tantissimi ma non sono pochi considerato almeno paragonati a quelle che sono le nostre mete turistiche italiane allo stesso tempo il sindaco i presunti discendenti di gesù non hanno fatto commercio né mercimonio come si diceva un tempo di questa di questa realtà però come vi dicevo nasce in tempi molto recenti verso la metà fine ottocento e si è tentato di fare degli scavi sotto questo tumulo si è cercato di approfondire un po tutta la questione però ahimè purtroppo i risultati sono stati tutti negativi quindi purtroppo l'ipotesi che gesù si sia recato in giappone almeno personalmente almeno per quello che sono gli studi condotti fino ad oggi tende a decadere molto facilmente però ecco forse mi è parso di capire dal tuo articolo scritto per uno editori e dal tuo video che questa tradizione nasce da una famiglia in precisamente che ha provato a tramandare comunque questa questo presunto gesù in giappone e forse potrei potrei dirti che magari il fatto che non si sia creato tutto un indotto sul turismo religioso è perché fondamentalmente il giappone è molto distante da dalla cultura cristiana cattolica assolutamente si è creato un piccolo indotto si è creata ovviamente una piccola venerazione di questa zona ma ci sono tutta una serie di elementi a tutti noi piacciono i misteri piace indagarli studiarli però è vero anche che non possiamo credere agli asini che volano nel senso quando ci troviamo davanti a qualcosa che ha delle prove degli elementi tante prove indiziarie ovviamente dobbiamo almeno per quanto mi riguarda portare avanti la ricerca uno studio quando però tutti gli elementi sembrano collimare il negativo lì bisogna un attimo alzare le mani magari non negare come fanno tantissimi scettici a priori soprattutto una possibilità ma se le evidenze sono negative comunque prendere in considerazione abbondantemente l'ipotesi che magari ci troviamo davanti a una costruzione storica nel caso del gesù giapponese ad esempio si parla di un testamento che sarebbe stato tramandato nei secoli che poi sarebbe stato portato a tokyo conservato nel museo nazionale e guarda caso durante ovviamente la seconda guerra mondiale i bombardamenti andò distrutto non ce n'è più traccia se non una copia che ovviamente questi discendenti di gesù che si trovano a scingolo dicono di avere e che è esposta a un piccolissimo museo locale per cui è curioso insomma sicuramente però sono diciamo un po' almeno per me delle costruzioni un po' artificiose che non mi fanno propendere per una verità storica in questo caso. Sai certe volte soprattutto nei nostri ascoltatori nei commenti ci scrivono eh va bene ma tutte quante queste queste notizie collimano le troviamo in in india quindi deve essere vero io direi che da pecoraniera forse possiamo fare discorso contrario forse molto molto spesso questi queste cose che sono risapute specialmente magari non ai tempi d'oggi che magari un pochettino più facile riuscire a capire ma anche solo una ventina di anni fa solo il passaparola come dicono molto spesso i periti forensi non ci vuole non basta semplicemente la persona che dice di aver visto una determinata persona perché molto spesso se le ricreata nella sua mente quindi può essere può essere anche che molto spesso uno cerca e cerca di trovare delle delle comunanze cerca di far colimare e molto spesso anche si convince di aver visto delle cose per trovato delle cose per poi far quadrare tutto. Beh sì in psicologia che l'ambito che ho studiato e studiato anche quello da tanti anni c'è un si chiama pregiudizio di conferma cioè quando io cerco un qualche cosa e ho già anche una convinzione minimamente formata nella mia mente è ovvio che selezionerò tutte quelle prove tutti quegli elementi che tendono a comprovare la mia la mia ipotesi e magari mettere un po da parte quelle che tendono a negarla ovviamente nessuno è perfetto però il vero ricercatore il vero scienziato deve prendere in considerazione tutto vero è che la nostra mente ci gioca brutti scherzi e certe volte più o meno volontariamente ci conduce verso una certa strada devo però spezzare una lancia e qui non me ne vorrà nessuno a favore di cose strane in giappone perché se noi andiamo in giappone ne parlo anche nel video c'è una cosa molto curiosa tutti conoscono la stella di david ecco per esempio questo simbolo è un qualche cosa che troviamo sia in india e poi quindi anche nel buddismo e si chiama shat kona sia in giappone e il bello è che in giappone in india india intendo anche l'attuale pakistan tibet nepal sono la presenza di questo simbolo la appunto la stella di david è precedente alla 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 sua comparsa in ambito ebraico il kagome giapponese lascia shat kona indotibetana sono antichissimi sono quasi dei simboli archetipici che troviamo in tantissime zone del pianeta questo è un elemento curioso anche qua purtroppo ad oggi non è stato fatto nessun nessuno studio in merito però interessante sarebbe molto bello indagarli mi sembra che tu ne abbia parlato in un tuo video passato ci sono questi simboli questi archetipi che si ripropongono nel nello spazio tempo nel tempo diciamo anche per esempio un simbolo che oggi va molto che è l'hashtag è uno appartiene se non sbaglio a questi simboli primordiali chiamiamoli così sì come ci sono gli archetipi yunghiani che tanti conoscono ci sono anche delle simbologie che troviamo ovunque nel pianeta questo non per forza porta a dire che ci siano stati dei contatti però in certi casi la complessità per quanto semplice a vedersi di certi simboli può far ipotizzare presumere che sì ci siano stati dei contatti nel passato un esempio che non c'entra in questo caso specifico ma nessuno si sarebbe aspettato poco meno di dieci anni fa di trovare del dna della civiltà ballinda tra gli aborigeni australiani e però la genetica ha dimostrato che nel 2200 circa avanti cristo delle navi della civiltà ballinda o a rappa che dir si voglia raggiunsero il nord dell'australia e si mischiarono con queste persone in fatto stesso ne parleremo dopo di san tommaso in india per tanti una leggenda però ci sono tanti elementi che sembrerebbero comprovarlo primo fra tutti che almeno dal terzo quarto secolo avanti cristo in india c'erano delle colonie ebraiche per cui insomma tante cose che possono sembrare assurde all'inizio poi magari si possono dimostrare nel tempo vero la questione di gesù in giappone è un'altra però anche i simboli che troviamo in tante zone del pianeta certe volte sono casuali molte altre volte fanno parte di contatti di cui magari abbiamo perso anche conoscenze per cui saranno speriamo riscoperti successivamente e allora rimaniamo lì enrico rimaniamo in india visto che l'hai citata e parliamo di un'altra tradizione forse più probabile rispetto al gesù in giappone ovvero la tradizione che parla appunto di questo viaggio di gesù in india che cosa ci puoi dire possiamo davvero ricondurlo al gemello beh allora ci sono due ipotesi principali la prima vuole appunto che fosse gesù stesso essere andato in india e quindi avere vissuto nei famosi anni perduti dove sappiamo quasi assolutamente nulla avesse vissuto in quelle zone avesse imparato studiato e avesse fatto di alcune parte di alcune comunità braminiche e poi se ne fosse tornato in israele dove poi sarebbe stato crucifisso un'altra tradizione invece vuole che non fosse gesù ma san tommaso che per evangeli apocrifi viene chiamato yeshua vidimo quindi gesù il gemello perché tanti apocrifi lo definiscono il figlio scusate il fratello gemello di gesù e gli apocrifi apro una piccola parentesi ci parlano di fratelli sorelle di gesù ci sono addirittura i discendenti di questi fratelli e sorelle di gesù che sono citati ad esempio da alcuni padri della chiesa come eugenio eusebio scusate di cesarea vengono addirittura gli viene dato un nome viene chiamata la dinastia dei desposini praticamente semi sconosciuta alla storia se non a pochissimi studiosi e la cosa curiosa è che ci sono tutta una serie di di tradizioni proprio dei padri della chiesa dove racconta dove si racconta ad esempio che comunità dei desposini si erano recate più volte a roma per così far presente il primato della chiesa di gerusalemme rispetto a quella romana dove c'era un vescovo perché quella di gerusalemme era retta da parenti e discendenti dei fratelli di gesù uno tra questi era anche san giacomo giusto per cui è una tradizione molto ampia in nel sud dell'india appunto troviamo una basilica troviamo un sepolcro dove sarebbe stato conservato appunto il corpo di san tommaso il didimo il gemello di gesù e ancora oggi viene venerata la sua missione insomma ci sono tantissime tradizioni nel sud dell'india in cui si dice appunto come fosse arrivato avesse cercato di evangelizzare sia la gente povera che le caste più ricche e ci fosse in parte riuscito subendo poi il martirio questo è una tradizione come vi dicevo c'è anche tutta una tradizione le prime ricerche risalgono verso la fine dell'ottocento in cui si parla di un vero gesù cioè un gesù di nazareth che si sarebbe recato in india e anche qua un po ci si può sbizzarrire però la cosa interessante molto più credibile personalmente la ritengo plausibile cioè non si può negare una possibilità del genere per quanto sia stata fatto moltissime volte nel corso dei decenni ci sono tutta una serie di documenti anche molto antichi in india dove si parla di questa figura proveniente da molto lontano chiamati in vari modi tipo yesua yesu e quant'altro che non solo aveva portato la sua conoscenza in questi territori ma anche aveva appreso da quelle che erano le conoscenze locali quindi ovviamente dai bramini e questo potrebbe spiegarsi e collocarsi anche con alcuni dei miracoli che poi successivamente gesù effettuerà nel suo mandato chiamiamolo storico insomma ma infatti diciamo ricolleghiamoci un secondo la la maria che non riesce a riconoscere il gesù dopo dopo che gli è stato tirato giù dalla croce e queste narrazioni di gesù in india cerchiamo di riuscire a capire allora è probabile che in india ci sia andato il il fratello di gesù è probabile che ci sia andato gesù una cosa una cosa che molti ci chiedono ma all'epoca sembra si viaggiava così tanto c'era un collegamento così tanto perché la storia cura tradizionale ci fa pensare che nessuno viaggiasse come come è possibile che dei duemila anni fa si venissero in contatto invece tutte quante le ritrovamenti storici ci dicono altro ci dicono che c'era una una globalizzazione per i passati milioni decisamente più ampia quindi assolutamente come come riusciamo a mettere insieme queste queste secondo te il gesù indiano era era gesù o era tommaso beh allora la risposta netta vorrei averla anch'io dal passo prima sicuramente beh no lo ritengo estremamente plausibile lo ritengo estremamente plausibile allora san tommaso viene mandato il suo mandato è quello di evangelizzare una parte dell'oriente che corrisponde all'india però questo può avvenire se già l'india era conosciuta ed era conosciuta e quindi potrebbe comprovare il fatto che gesù ci fosse andato prima allo stesso tempo come vi dicevo colonie mercantie ebraiche erano note in india già dal terzo quarto secolo avanti cristo nell'antico testamento re salomone tutti gli anni se non ricordo male riceveva da ofir un carico di lapislazzoli pietre preziosi e altre pietre che si trovano solo in india per cui i contatti c'erano cioè abbiamo una visione come dicevi te un po limitata e limitante del nostro passato ci si spostava ci si spostava moltissimo pensate che dall'anatolia quindi l'odierna turchia i guanci che sono gli attuali abitanti erano gli abitanti delle canarie possiedono del sangue nel loro dna tracce di abitanti dell'anatolia dell'ottomila novemila avanti cristo per cui ci si spostava e anche tanto certe volte sappiamo come una di queste strade era la famosissima via della seta che si perdeva nella notte dei tempi altre volte via mare prima citavo i vallindi la civiltà vallinda che coeva coi sumeri commerciava con i sumeri e abbiamo delle steli sumere che ci dicono questo per cui anzi quando i sumeri erano l'apice della loro del loro impero erano contati circa in 400 mila abitanti in tutta la mesopotamia mentre la civiltà vallinda era di 5 milioni di abitanti ed era una civiltà commerciale grandissima ci si spostava ci si spostava anche tanto come vi dicevo prima fino al nord dell'australia però non è che se ne è persa memoria o traccia un po si sta riscoprendo ma soprattutto non ci viene insegnato durante gli studi che siano liceali o di scuola raramente anche all'università e mi chiedevi se posso credere a un Gesù in India si lo ritengo estremamente plausibile perché ci sono tutti gli elementi perché lui si potesse spostare andare in quelle epoche in quelle zone d'altronde tu Enrico hai detto che appunto la missione di Tommaso era quella di evangelizzare una zona che possiamo ricondurre all'India io faccio una precisazione prima ho parlato di gemello non a caso perché quello che noi conosciamo come Tommaso in realtà il suo nome era Giuda detto Didimo Tommaso ricordiamo che in aramaico se non sbaglio vuol dire gemello e Didimo in greco vuol dire gemello quindi poi nella cultura semitica questo raddoppiare voleva come dire chiarire cioè dire rafforzare esattamente quindi probabilmente era erano talmente somiglianti talmente simili e da lì nasce un po la senza addentrarci proprio in un parlo gemellaria lasciamo perdere questa questione però la tra l'altro ricordiamo che quello che per noi è San Tommaso è morto proprio in una città riconducibile alla alla metropoli indiana di Kennai se non sbaglio una cosa del genere non so come si pronuncia però mi sembra Enrico che ci sia una volontà da parte di noi tutti forse di dare una spiegazione scientifica poi alla questione ai miracoli alle conoscenze medico scientifiche che aveva Gesù e quindi si dice è andato ad apprendere in Giappone determinate determinati determinate conoscenze è andato in India e lì ha imparato a fare questo e a fare quello e poi gli esseni insomma c'è quasi una come dire il volersi rispondere a una domanda ma da dove ha imparato a fare certe cose io adesso la sto buttando proprio a sole raso terra poi è un discorso così peregrino questo beh posso darti la mia idea c'è sicuramente allora anche qui c'è da dire tante cose noi seguiamo una tradizione che la tradizione paolina san paolo che non ha mai conosciuto il gesù storico e addirittura viene condannato da san giacomo e altri apostoli e discepoli quando si reca a gerusalemme c'è da dire che ovviamente avendo una religione che ha eletto gesù non voglio offendere la sensibilità di nessuno ma ha eletto gesù a figlio di dio e questo storicamente sappiamo avverrà molto dopo nel concilio di nicea che nel 325 dopo cristo però abbiamo eletto oggi gesù a figlio di dio ovviamente la tradizione che è una tradizione molto filtrata molto anche manipolata ci parla di miracoli allora si può non negare l'esistenza dei miracoli sicuramente ci sono e c'erano tutta una serie di tradizioni le citati prima te che ci possono permettere di comprendere un gesù più umano più terreno se ha fatto parte sul condizionale della comunità degli esseni è molto probabile che avesse imparato delle tecniche taumaturgiche che venivano praticate dagli esseni così come ci dice l'archeologia e quindi certi miracoli che noi oggi attribuiamo a una manifestazione divina possono spiegarsi in questo modo in india altrettanto in india in india abbiamo la iurveda che piaccia o no comunque sia anche se in occidente è stato un po alterato e storpiato ma ha una tradizione molto simile l'uso di erbe di sostanze e quant'altro che possono avere così permesso a gesù di diventare un taumaturgo come si diceva in quel tempo c'è una persona in grado di curare i malati per cui noi non abbiamo una tradizione pura i vangeli sinottici o anche giovanni non ci danno il racconto fedele degli eventi prova ne è che sono quattro angeli contro aiutatemi voi a dire quanti che sono apocriti gnostici e quant'altro poi ovvio nessuno ha la verità e tutti hanno la verità fatto è che se dobbiamo avere un criterio scientifico dobbiamo mettere insieme tutte le informazioni poi cercare una media ponderata del tutto quindi il gesù storico che ne viene fuori era un ebreo che voleva riformare l'ebraismo non penso a livello personale fondare una nuova religione e quello che è il messaggio che è passato arrivato fino ad oggi è una versione per i gentili come viene detto nei vangeli quindi una versione per quello che era il popolo romano il gesù storico si può essere mosso spostato avere appreso se era dentro la comunità essena appunto i loro insegnamenti se è andato realmente in india come tanti documenti sembrerebbero confermare è possibile insomma nessuno lo può negare cioè ci sono tante prove per dire che è probabile che lui ci sia andato tante altre per confutarlo però ad oggi una linea netta non è stata tracciata cioè nessuno ha portato prove inconfutabili per dire gesù non c'è andato in india allora partiamo diciamo questa cosa abbiamo preso la tomba siamo partiti dalla tomba di gesù in giappone e mi sembra di aver capito che abbiamo messo un una gossa pietra su questa tomba mi dispiace mi dispiace però siamo in un periodo in cui sembra che le tombe piuttosto che i ritrovamenti siano all'ordine del giorno quindi non mancano notizie su anche sui giornali ritrovata ritrovati resti ritrovate tombe su questo ti volevo fare una domanda allora gesù poco probabile in giappone invece abbiamo il ritrovamento della tomba di tal piot dove si si dice che si sarebbe ritrovata l'intera famiglia di di gesù quindi anche qui diciamo che una cosa che accomuna tutto quanto questo è che diciamo che gesù sulla croce diciamo dopo quello non ci sia rimasto si faccio una parentesi che bella interessante se noi prendiamo il corano tutti conosciamo libro sacro per l'islam ad esempio nel corano si dice che gesù fu sostituito sulla croce si dice chiaramente che non fu lui ma fu sostituito da un'altra persona e quindi gesù continuò il suo comandato in maniera diversa e la gente lo lo credette morto la tomba di tal biot è molto interessante perché viene scoperta ufficialmente nel 1980 e come dicevi te cambia un po quelle che sono le carte in tavola sulla questione gesù è stata molto scomoda ha assunto gli onori della cronaca poco più di una decina di anni fa anche perché james cameron autore di tantissimi film ha fatto un documentario su questa tomba però come come dicevi all'interno di questo sepolcro vengono trovati tutta una serie di personaggi che corrispondono a quelli che nella versione ufficiale erano le persone più vicine a gesù nelle versioni apocrife erano i suoi familiari quindi giacomo una maria addirittura c'è scritto giacomo fratello di gesù questo appunto è stato molto scomodo perché ha creato non pochi problemi fin da subito si è negato che fossero ovviamente i parenti di gesù senza neanche quasi avere condotto degli studi quello che era il sepolcro di san giacomo in cui erano state raccolte le sue ossa misteriosamente viene analizzate poi misteriosamente viene distrutto durante un trasporto per cui quelle che sono le possibili analisi che non poteva fare dopo erano state inquinate però per fortuna dagli anni 80 agli inizi del 2000 quando diventa famoso questo questo sepolcro con i familiari di gesù del gesù storico di foto di analisi ne sono state fatte e tutto sembrerebbe dirci che effettivamente quella era la famiglia di gesù erano i familiari più stretti più intimi quelli che poi in altre tradizioni come appunto quella di eusebio di cesarea sono i desposini che sappiamo per certo esistere e rimanere nella gerusalemme fino al quarto quinto secolo dopo cristo per cui purtroppo come dicevo tanti elementi nel caso della tomba di talpiut sono andati per me volontariamente distrutti però ci comprovano che questi familiari molto probabilmente sono esistiti vedi Enrico noi dopo la lettura di questo libro che adesso proverò ad inquadrare di la famiglia di Cristo che noi conosciamo molto bene perché qua sopra si è scritto Enrico Baccarini dopo la lettura insieme ovviamente ad Andrea di Lenardo ma abbiamo fatto con Andrea un paio di puntate se non di più sul nostro canale proprio per parlare della tomba di talpiut convinti di scatenare nel nostro piccolo sempre però un certo dibattito però tutto è filato abbastanza liscio come nella realtà è successo anche nell'opinione pubblica nel senso la notizia di un ritrovamento di una tale tomba in un posto molto preciso vero a Gerusalemme seppure in un quartiere defilato con una rispondenza così alta di percentuale di possibilità che quella sia veramente la tomba di Gesù parliamo di percentuale una percentuale matematica superiore al 95 98 100 dove noi per altri personaggi storici solo con il 15 20 per cento di probabilità l'odiamo per assodato che quella sia la tomba cioè questa dovrebbe essere una rivoluzione totale a livello religiosa e culturale ma questo questo non è successo insomma no perché comunque vige la regola che qualcuno è lì da 2000 anni e da 2000 anni porta avanti il proprio mandato per cui c'è una chiesa ovviamente se vi ricordate i famosi rotoli del mar morto vennero affidati se non sbaglio si chiamava padre devo a un francescano che li ha segretati per direi qualche decina d'anni cioè c'era la paura al tirarli fuori perché comunque quello che viene fuori anche dai rotoli di cumbrani rotoli del mar morto è scomodo ci racconta una storia diversa idemi vangeli di naggammali trovati casualmente che sono altri vangeli apocrifi cioè la tradizione come si diceva prima del cristianesimo delle origini è una tradizione diversa da quella che è stata insegnata ci viene insegnata ed è stata portata avanti sempre se non sbaglio all'inizio del 2000 prima si parlava di san tommaso viene fuori il vangelo apocrifo di san tommaso vi ricordate nation geographic fece un documentario shock venne ripubblicato ecco in quel valgello vero o no che sia questo ognuno è soggettivo il giudizio però si racconta una storia diversa su san tommaso san tommaso non è quello che tradisce gesù san tommaso forse ti riferisci forse ti riferisci a giuda non a tommaso al vangelo di giuda sì al vangelo di giuda sì hai detto tommaso no ti correggevo scusate sì sì no volevo dire giuda la figura di giuda che ne viene fuori è una figura diversa da quella che è stata raccontata fino ad oggi c'è una persona che tradisce per 30 denari la storia reale raccontata in questo vangelo ci racconta che sarebbe stato gesù stesso a dirgli di compiere quell'atto perché altrimenti non tutto quello che è il suo sarebbe stato il suo mandato non sarebbe stato possibile per cui giuda non fa altro che compiere quelli che erano i dettami del suo maestro ho sbagliato prima non era san tommaso era giuda scusate il lapsus e capite per cui abbiamo una tradizione veramente diversa che è arrivata fino a noi di tantissime realtà dei desposini non ne parla nessuno di parenti che sicuramente sono esistiti di gesù di fratelli di sorelle per quanto siano presenti all'interno dei vangeli vengono citati si dice sempre ah ma è un termine o è una cattiva traduzione o in termine per indicare delle persone che gli erano molto vicine però l'aramaico il greco hanno termini precisi per indicare un familiare piuttosto che un amico o una persona un un amico fraterno una persona molto vicina per cui noi oggi possiamo giocare con le parole quelli che sono i testi originali per quanto sono stati manipolati avevano dei termini precisi e sono stati tradotti in modo preciso per cui andrebbe riscritto letteralmente la storia del cristianesimo e non è facile perché ovviamente ci sono tante reticenze tante non volontà e poi c'è una fede si è creata una fede per cui diventa impossibile poter cambiare lo status quo Enrico noi ti ringraziamo per essere venuto e tornato qui da noi l'ultima domanda so che tu non ne vuoi parlare ma cosa farai cosa c'è cosa bolle in pentola ci rivedremo presto diciamo per i nostri amici che ci rivedremo presto con qualcosa di assolutamente interessante di nuovo ok sicuramente possiamo dire che bollono in pentola diverse cose ci sono tante novità che stanno nascendo che nasceranno insomma per certo tra ottobre e novembre per cui insomma per chi mi segue o segue altre realtà che avete citato anche prima ci sono insomma delle belle novità e tante belle novità che attenzione qui bisogna cercare di riuscire a trovare in mezzo alle parole quindi amici chi riesce a capire di cosa sta parlando Enrico lo scriva sotto nei commenti vediamo vediamo chi ci azzecca non posso spoilerare non me ne volete ma però diciamo che ci sono tante novità che penso spero soprattutto potranno piacere al pubblico di persone in generale al di là di chi mi segue segue voi insomma che segue certe tematiche perché saranno dei modi dei canali delle forme di approfondimento uguali a quelle che c'erano migliorate ma anche nuove insomma ecco ci ringrazio 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 Enrico vi esorto a andare a vedere il canale di Enrico perché ha un sacco di argomenti molto interessanti così come vi esorto andare sotto al nostro perché vedo che molti vengono a vedere i video ma non si iscrivono e non mettono mi piace quindi questo malissimo iscrivetevi mettetevi mi piace Marco ti lascio la parola per i saluti io sono molto contento di aver riavuto insieme a noi Enrico Baccarini lo seguiremo per noi per il nostro piacere per il piacere di quanti vorranno vedere i video sul nostro canale e sul suo canale lo salutiamo ti saluto Luca grazie Enrico per essere rimasto ancora una volta con noi e chiudo così ricordatevi che la pecora più legge più diventa nera alla prossima ciao a tutti ciao Luca Terzani e Marco Terrone presentano la pecora nera quello che gli altri non dicono